Felicità è, per Emil Olm, anche segnare il suo primo gol in erazzurro. Sì, sono molto felice, orglioso, grande partita e grande vittoria. Lo volevi questo gol? Ci hai provato, hai preso la traversa, poi eri subito lì per buttare dentro il pallone. Sì, quando la palla è dentro il gol sono felicissimo, cinque gol, ma per me è il primo gol per Atalanta, sono molto contento e felice. Emil, siete partiti, pronti via, 3-0, partita praticamente chiusa. Sì, è giusto, ma dobbiamo continuare a giocare, perché dopo 3-0 è facile, basso il livello un po', ma penso giochiamo una grande partita. Emil, state bene, avete preso fiducia, ve l'ha data anche la vittoria sul Milan in Coppa Italia, ma anche uscire indenni da Roma. Insomma, tutta una serie di risultati per questa squadra che sta crescendo partita dopo partita, sei d'accordo? Sì, è giusto, ma dobbiamo ricordare che la strada è lunga e dobbiamo continuare così, perché 3 giorni rimane, dobbiamo continuare.